Sì, oggi non presentiamo solo i veicoli, presentiamo tutta una squadra che già da qualche settimana sta lavorando per la nostra città. Siamo riusciti a partire, a dare il calcio d'inizio, questo è un bel mattoncino che mettiamo nella nuova regio che vogliamo costruire insieme, quindi siamo molto contenti, ci sono effettivamente sotto anche dei mezzi nuovi comprati con i patti per il Sud che il Comune ci ha affidato e siamo sulla buona strada. Quali saranno i prossimi mattoni? Ci saranno sicuramente delle nuove assunzioni, il progetto prevede l'assunzione dell'intero organico, prevede l'acquisto di nuovi mezzi, prevede tutta una serie di cose per portare la società al regime e fare in modo che sia una società efficace al servizio della città, ovviamente con i principi di efficienza e economicità che l'istituto della società in house permette.